Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di stasera, barra oggi qui direttamente dal bagno perché, guardate il mio bagno è super vintage perché, come si dice, non c'è più luce, purtroppo sta arrivando buio, che palle e niente, voglio farvi vedere l'outfit che è molto sportivo ho appena fatto i capelli ma ho una ricrescita veramente assurda anche se così non si vede però non li ho neanche piastrati, c'è una ricrescita assurda che devo andare da parrucchiera a farlo appena riesco perché non mi piacciono più infatti li porterò tantissimo legati, l'outfit è molto carino e semplice non è nelle mie corde solitamente però, vabbè, per andare, devo andarci noi, i miei suoceri quindi ecco qua il piercing, ho fatto fare anche le sopracciglia, per fortuna indosso questi orecchini dorati che sono dei cerchietti, perché sono graffiata buio sono dei cerchietti, sono queste placchettine dorate, molto carini, anche se non si vede ho il cappello liscio, questa filpina di Stradivarius, questo, oddio c'ho i lapsus scusate, di che cos'è questa roba? mio dio, perché ho questi lapsus? non ricordo, deve essere tipo di Stradivarius, se non sbaglio è carina, colore vesciolino, chiaro, con questa taschina, con questi fiorellini, con queste scritte e questo, questa spilla con scritto bad e la filpina è morbida, l'ho messa con questi jeans che vi faccio vedere, appunto, sono dei jeans di Zwicky quelli che arrivano sopra la caviglia, un pochino strappati mi piacciono tantissimo, di più quei tacchi e i piedi, appunto, per farvi vedere i miei converse che sono queste qua, che ho preso dagli africani sono praticamente uguali alle originali, sono tutte glitterate, argentate mi piacciono tantissimo, abbinate così come borsa dovrò ancora vedere però penso di mettere una borsa sciallina una borsa scialla non so bene il colore comunque, vabbè, una borsa qualsiasi intanto vi saluto, vi auguro una buona domenica sera ci vediamo nel prossimo video ciao, fatemi sapere se vi piace questo outfit sportivo, dove sembro una 18enne però va bene ogni tanto va bene anche questi outfit ciao